Buongiorno a tutti, si sente spesso parlare di nanotecnologie, ma che cosa sono queste nanotecnologie? La nanotecnologia è una scienza applicata che si occupa di investigare e di analizzare quella che è la materia a livello infinitamente piccolo. Tanto per avere un'ottica consideriamo che un nanometro corrisponde a un miliardesimo di metro. Quindi stiamo parlando dell'ottica veramente infinitamente piccola. Siamo nell'intimità della materia. Le nanotecnologie offrono potenzialità enormi nelle più svariati settori. Nel settore della domotica, nel settore dell'automotivo, quindi nel controllo della sostenibilità delle vostre automobili, nell'aerospaziale, nelle scienze dei materiali, per esempio con robe materiali utili per esempio nell'edilizia o nei variati campi. Un'altra applicazione invece molto più interessante potrebbero essere con il campo medicale e nel campo farmacologico. Fino a questo momento però stiamo parlando di strutture talmente piccole che è come ipotizzando di giocare con i Lego, atomi, molecole, come se fossero dei proprieti della Lego. Sarà per come voler giocare con i Lego, realizzare delle costruzioni indossando dei guantoni da box. Ecco, non è propriamente la cosa più semplice del mondo. Tuttavia, fino a questo momento, con tecniche particolarmente avanzate, l'ho riuscito a realizzare strutture relativamente semplici. Dei cantieri, cioè delle sorte di, chiamiamo così, trampolini, in grado di percepire molecole, quindi di essere molto selettivi nella percezione di determinate molecole. In altri campi, molti di voi avranno i telefonini di ultima generazione, sono dotati di accelerometri in grado di far percepire all'oggetto, e quindi a noi che lo utilizziamo, lo spostamento sui tre assi dell'oggetto stesso. Vengono utilizzati per esempio anche per i vostri sensori di aereo. E frenata, altro non sono che una struttura di quella che è un movimento sulle tre dimensioni. Tuttavia, ci viene in soccorso la natura, perché dove non arriva l'uomo, la natura ha già un ufficio provvedì aperto, disponibile e altamente gratuito, al quale vale la pena adingere. Che cosa sono? Da 135 milioni di anni, le datomei popolano le acque terrestri. Sono anche unicellulari, dotati di struttura silicea, che ha le più variate forme. Alcune ricordano, per esempio qualcuno di voi ricorderà Star Wars, la morte negra, sfere traforate, dotate di produttura estremamente accentuata. Alcune ricordano di iscrivolanti, non sono una cosa di fantascienza, però è proprio questo che ci ricorda. Per gli amanti di arte, invece, che cosa abbiamo? Sembrano rosone del duomo. Queste strutture possono essere utilizzate sfruttando praticamente alghe, queste alghe di atomei, alghe unicellulari, ripeto, che possono essere utilizzate per esempio per il filtraggio di agenti inquinanti, nel campo di nuovo dell'automotiva, dell'industria, nella percezione di quelli che sono gli agenti inquinanti e che non vogliamo rilasciare nell'ambiente. Nel campo farmacologico e medicale, invece, possono essere utilizzate come vettori importanti di sostanze farmacologiche che vanno a incidere solamente nelle cellule effettivamente malate. Cellule effettivamente malate che quindi cosa comportano? Un abbassamento di quelle che sono i principi attivi che vanno a colpire solamente le cellule infette, lasciate invece di bere a quelle che sono sale. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.